buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario di canale 81 andiamo a vedere le notizie del giorno una rapina andata male finita in violenza con una violenta aggressione continua continuano le rapine ad aprilia dove l'altra sera due movimenti armati di pistola hanno assaltato una pizzeria all'incrocio da via silciatelle via pantanelle i due rapinatori giunti a bordo di uno scudere con indosso di caschi integrali e guanti sono entrati all'interno dell'attività con armi in pugno e minacciato il titolare della pizzeria per impossessarsi della cassa il titolare ha provato a porre resistenza ed è stato aggredito continuiamo con la cronaca ma ci spostiamo a frosinone prende a calci l'avvocato dell'ex marito che a suo dire avrebbe sostenuto fatti non corrispondente al vero per poter tutelare il suo assistito e gettare fango sulla sua persona il deprecabile gesto si è verificato presso il tribunale di frosinone precisamente davanti all'aula dove era in atto un'udienza di separazione la donna una casalinga di 47 anni mamma di un figlio adolescente che risiede nel cassinato addirittura sembra che abbia tentato e abbia tentato persino di fare sgambetto a legale per farla cadere quando l'avvocatessa riferito al giudice di essere stata aggredita la casalinga avrebbe negato tutto dicendo che quello che stava dicendo era soltanto frutto di fantasia e andiamo avanti la denuncia della digos a roma telecamere sotto sequestro e soprattutto il sopraluogo della scientifica a frascati è stata aperto un'indagine sull'aggressione a gabriele cherubini in arte chef rubio e per le sue posizioni pro palestina telecamere sotto sequestro e sopraluogo dove lo chef è stato malmenato intanto sui social scrive grazie a tutti per il sostegno ma molti lo attaccano ancora per le sue posizioni contro israele e vediamo invece un fatto a mentana una situazione diventata insostenibile sostenibile per una famiglia dal punto che nessuno riusciva ad aprire le finestre a causa delle invasioni di api presenti all'interno di un muro di un palazzo nella provincia di roma erano circa 200.000 insetti sostiene andrea lunerti chiamato a mettere sicurezza allo stabile le api sono stati tutti sono state tutte aspirate e condotte in una speciale arnia e le api ha raccontato lunerti avevano nidificato nell'edificio e nei siti urbani limitrofi con sciami gigantischi divenuti un pericolo per i residenti e poi vediamo i lavori dell'area archeologica la realizzazione della nuova passeggiata nell'area archeologica dei fori imperiali inizia a prendere forma da giugno e per circa 5 mesi ci saranno intervetti su via santi odore via foro romano per la riqualificazione di 7.500 metri quadri di strada per un totale di 300.000 san pietrini ormai scondisse a causa del passaggio delle auto al via i lavori che vedranno la realizzazione completa per il giubileo 2025 e con questa notizia noi concludiamo il nostro notiziario come sempre grazie per essere stati con noi e vi rimando ai prossimi appuntamenti appuntamenti